Ciao e benvenuti a questo nuovo video, intanto mi scuso se negli ultimi giorni non sta uscendo colazione a fumetti ma ho avuto problemi di tempo veri e propri e soprattutto nell'ultimo giorno, tipo ieri, hanno lavorato al piano di sopra per tutto il tempo e quindi non ho potuto registrare e non avevo voglia di farlo di notte o una vita anch'io, tipo. Ma in ogni caso siamo qui per guardarci il trailer di Moon Knight che dovrebbe essere uscito questa notte, un personaggio che conosco, sì come potete vedere me li sono portati qua, ho un po' dei fumetti del personaggio ma che non è esattamente uno dei fumetti dei personaggi Marvel con più pubblicazioni all'attivo, ne ha avuti in realtà abbastanza rispetto a tanti altri tipo Morbius che vengono strombazzati fino ad agli addirittura un film. Però è un personaggio complesso, particolare e che probabilmente non ha mai trovato il vero successo sebbene sia comunque piuttosto amato dei fan anche per questa cosa di essere una sorta di Batman della Marvel che però si veste tutto di bianco e quindi fa un po' ridere ma è un personaggio complesso come dicevamo quindi vediamoci il trailer e poi ne riparliamo un attimino. Ok Ok Direi che non vuole andare in giro di notte Egitto ecco questo qui già mi fa un po perché hai pettinato così? il fatto che sia Batman bianco continua a farmi un po' ridere no che brutta quella scena mamma mia che bruttezza comunque carino devo dire ora che ti vede il trailer strano tanto sembra avere finalmente per essere una serie Marvel su Disney Plus è un approccio maturo il che mi stranisce un po' devo essere sincero a parte quel Moonlight che salta e fa il simbolino di Disney Plus quella è veramente una cosa di un cringe che ne ho viste poche come sempre ora vi spiego il trailer non lo so se ha davvero senso spiegarvi il trailer il concetto è sì Mark Spector che in teoria è il vero nome ha dei problemi e direi che nel trailer si nota già per principio e infatti si presenta per tutto l'inizio del trailer come Steve questo perché? perché effettivamente lui ha delle personalità multiple e questa cosa è sempre stata molto affrontata nel fumetto in modi un po' ovviamente diversi da autore ad autore a volte bene, a volte male, a volte non c'è, a volte non c'è gli stessi poteri di Moonlight non sono mai stati molto chiari Moonlight ha effettivamente dei poteri magici dei poteri, dei superpoteri che gli derivano da Khonshu il dio della luna? boh, non si sa nel senso che nel fumetto a volte si dice che sì a volte si dice che Khonshu non esiste altre volte l'approccio è molto più mistico e divino divino, tra virgolette altre volte no e quindi è sempre stato un po' un casino ora, io le ultime serie di Moonlight sinceramente ce le ho molto poco fresche nella mente e so poco dove si vuole andare a parlare ma le possibilità sono potenzialmente infinite per la serie tv mi ispira? beh sì, sinceramente così a vederla sì anche se mi è astranito tantissimo la scena del costume in cui gli si avvolge attorno tipo simbionte di Venom quello è stato un po' strano da quello che ricordano i fumetti il costume è sempre stato semplicemente un costume lui nasceva come agente speciale in teoria che veniva mandato in Egitto e in Egitto appunto veniva in contatto forse con questa divinità appunto egizia Khonshu la divinità della luna e poi diventava Moonlight che era un po' l'avatar di Khonshu sulla terra e ci sono un sacco di casini su questa cosa tra l'altro è stato di recente protagonista di una run degli Avengers di Jason Aaron che però non ho ancora letto perché ce l'ho lì da leggere da un po' e boh sinceramente no sono effettivamente hypato e tra l'altro la cosa positiva se non altro del fatto che arriva la serie su Marvel Disney Plus è che avremo un sacco di fumetti che verranno ristampati ora non ce li ho tutti freschi a memoria io ho qui quelli vecchi questo qui è il 100% Marvel originale di Aston e Finch che credo verrà ristampata mi pare l'abbiano annunciato nella conferenza Marvel di Lucca per finta se andate a recuperare il video ci sono tutti gli annunci comunque e stessa cosa dovrebbe arrivare quello di Warren Ellis questo esce se non sbaglio a marzo o febbraio addirittura lo hanno già annunciato sull'anteprima di questo mese e poi in teoria arriverà anche la run di Jeff Lemire sempre ristampata ma questa ce l'ho completa non so se ristamperanno anche materiale più classico tipo Noti di luna piena di Monica Sienkiewicz che era fondamentalmente una miniserie dedicata a Moon Knight no nemmeno una miniserie in realtà erano episodi della sua serie regolare dal 26 al 30 con disegni super 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 particolarizzati molto fico e poi molto apprezzata ai tempi forse oggi lo sarebbe decisamente meno era il Moon Knight di Stephen Platt scritto da Carrie Carragge che boh sinceramente era uscito giusto questo volume così lasciato un po' era un Marvel Magazine presenta boh roba un po' stramba e che dire sono hypato sono curioso sinceramente di vedere la serie perché potrebbe essere una buona iniziativa diciamo poi cosa ne conseguirà sarà bellissima sarà bruttissima sarà fantastica non lo so l'unica cosa non ho cercato ovviamente ma il tizio con i capelli indietro sinceramente non mi ricordo chi sia non ho ben freschi a memoria i cattivi di Moon Knight e non mi sono andato a leggere Wikipedia come sicuramente qualcuno avrà fatto per rinfrescarmi la memoria per carità non c'è niente di male se siete curiosi di avere informazioni in più internet è un ottimo posto ed è ben più facile e consultabile di comprarsi i fumetti per cercare informazioni io stesso quando ho bisogno di avere informazioni che magari non mi ricordo faccio prima ad andare su Marvel Database che andarmi a scartabellare non lo so chili di fumetti comunque attesa sicuramente la seguirò mi ispira più di altre serie a livello proprio di setting nel senso che sembra molto matura spero ci siano poche battute anche se sicuramente qualcuna ci sarà perché Marvel Disney però se va tutto bene potrebbe essere una bella visione speriamo incrociamo tutte le dita e top comunque direi che con questo vi ho praticamente detto tutto vi ringrazio di aver seguito il video se vi è piaciuto mettete un like iscrivete al canale cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo vi ricordo che ho aperto un gruppo Telegram in cui prepariamo i fumetti un canale con le notifiche un canale con le offerte poi ho una pagina su Instagram in cui pubblico le copertine di colazione a fumetti un canale su Twitch dove faccio live tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21 e poi cantina pelata secondo canale YouTube dove vi pubblico le live in ogni caso noi ci vediamo al prossimo video